Avrebbe abusato della nipote di soli 13 anni. È stato condannato a 5 anni di carcere dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce e lo zio, con l'accusa di violenza sessuale sul minore. I fatti risalirebbero al 2008. L'imputato, secondo quanto sostenuto dal sostituto procuratore Stefania Mininni, che aveva chiesto una condanna a 6 anni e mezzo di carcere, avrebbe approfittato del fatto che la presunta vittima era a casa da sola. Si sarebbe avvicinato a lei mentre era ammalata nel letto e l'avrebbe molestata. Sullo sfondo i genitori della presunta vittima erano separati e la madre in ospedale in seguito ad un brutto incidente stradale. La ragazzina, con la sorella di 4 anni più grande, era stata affidata alla nonna, che nel momento in cui si sarebbero verificati i fatti, era lontana dall'abitazione. La tredicenne, in ogni modo, avrebbe cercato di sfuggire alle violenze dello zio fino a chiudersi a chiave in bagno e da qui avrebbe chiesto aiuto tramite un SMS ad un'amica. L'SMS sarebbe stato letto dalla madre della compagna di scuola, che all'armata avrebbe subito contattato la ragazza e successivamente il padre. L'indagine, molto complessa, sarebbe stata resa ancora più difficile dall'omertà all'interno dell'ambiente familiare, tant'è che il PM ha chiesto ed ottenuto il trasferimento alla procura degli atti per tre familiari, tra cui la madre della presunta vittima, con l'accusa di falsa testimonianza.